E allora, sempre di grandi successi, il titolo è Con me e a proporcelo ritorno a lui. Manuel Martini con Enrica. Venite ragazzi, prego! Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. Con me e a proporcelo ritorno a lui, con me e a proporcelo ritorno a lui. I love I love